Giovanna, qual'era quella cosa di cui mi dovevi parlare? Mi sono iscritta a un concorso per Miss Fabrizia Ce sono stata! Dove sei stata? A Cinecittà, al concorso Cinemato Grande Allora, volevo sapere, mia figlia che speranza ha di vincere? Signora Bella, sua figlia ha le stesse chance di tutte le ragazze Tutte le nostre finaliste sono belle Suo ngangishi ilana Cherusalema, ikayalami Ilondolose, uhambenami Suo ngangishi ilana Dao oyami, alikolana Buso wame, aukolana Ilondolose Suo ngangishi ilana Suo ngangishi ilana Dao oyami, alikolana Buso wame, aukolana Ilondolose Suo ngangishi ilana Suo ngangishi ilana Ilondolose Suo ngangishi ilana Suo ngangishi ilana Suo ngangishi ilana